Oggi è una giornata molto importante per questa maratona che ha un significato anche molto molto importante con riferimento, questa maratona che io farò di 4 km nel percorso di circa un'ora di tempo, è una bella manifestazione in quanto è dedicata praticamente a no alla violenza contro le donne ed è per questo che lo faccio e anche per promuovere lo sport il nuoto, diciamo gli sport in genere ma anche il nuoto perché è una cosa molto importante che riguarda la salute delle persone, quindi affidiamoci allo sport, affidiamoci al nuoto per stare sempre bene. Il premio speciale che ci hanno mandato da Roma da parte del Presidente nazionale. Grazie a voi, grazie a lei dell'invito per l'Oxen, è sempre un piacere stare nel mondo sportivo anche della squadra, perché noi abbiamo tanto 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 in Puglia a livello di squadra. Grazie, è un pensiero gentile, è un pensiero che riguarda lo sport, la salute e la vita delle persone. Certo, certo, lo sport è vita. Certo, lo sport è vita. personalmente, ha soprattutto il salute, il motivo di vita, perché lo sport ha un grande valore, un valore che, diciamo, aiuta le persone a stare bene, ma anche andare all'ospedale, sempre andare in palestità.